Procede il lavoro della terza commissione che continua a essere produttiva ed efficace nelle sue attività. Grazie al lavoro di tutti i componenti della commissione continuiamo a licenziare dei provvedimenti sia come pareri all'aggiunta regionale per accelerare le azioni di finanziamento delle varie attività che vengono svolte nella nostra regione sia di natura economica che imprenditoriale che culturale, che sociale. Abbiamo in questa sessione di commissione e abbiamo licenziato una serie di provvedimenti importanti per favorire la imprenditoria femminile, provvedimenti per quanto riguarda il bilancio della regione del Veneto, altri provvedimenti propedeutici alla adozione da parte dell'aggiunta regionale della nuova proposta di piano faunistico venatorio che andrà a regolamentare le varie attività di gestione faunistica ed ambientale nella nostra regione per i prossimi 5 anni. La commissione ha illustrato una proposta di legge di modifica della legge regionale 50 del 93, che è la legge sulla gestione faunistica nel nostro territorio, provvedimento conseguente a un'approvazione nella legge di collegato alla legge di stabilità regionale che prevede l'assunzione in capo della regione di tutte quelle materie che hanno prima delegate le province, tra le quali anche caccia e pesca. Quindi è necessaria questa modifica per fare in modo che il nuovo piano fonistico venatorio in fase di adozione da parte dell'aggiunta regionale possa essere illustrato poi nei suoi contenuti da parte dell'aggiunta presso la commissione e poi arrivare alla sua definitiva approvazione in consiglio regionale entro la fine di quest'anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.